C'è un'espressione che tutti conosciamo, peregrinazio Marie, perché tante volte anche qui a San Giovanni Rotondo abbiamo avuto la gioia di statue e figi legati appunto alla Vergine. E noi oggi abbiamo da parlarvi delle ultime tappe di una peregrinazio della statua della Vergine di Lourdes, che è per antonomasia colei dalla quale tutti coloro che insieme con l'unità si recano appunto in questo luogo a chiedere la grazia hanno particolarmente cara. Perché abbiamo scelto la giornata di oggi nell'ambito di parecchi giorni possibili che potevamo scegliere in quanto, caro Toni, quest'anno è il sessantesimo anniversario della morte di Giovanni XXIII, un altro Papa Santo. Non sempre io metto il titolo ufficiale quando parlo di questi personaggi meravigliosi. E allora siccome appunto la Vergine, dopo Milano, Lecco, Como, tante altre tappe, Lombarde per arrivare poi da domenica in Piemonte, fa tappa anche nel luogo che ha dato i Natali a Giovanni XXIII, noi siamo collegati proprio con Sotto il Monte e abbiamo il referente dell'Unitalsi per Bergamo e provincia, che ringrazio subito per la sua disponibilità mattutina. E con noi Ezio Limonda, presidente Unitalsi Bergamo. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. La cosa più bella che lega la Madonna di Lourdes a questo grande uomo e Papa? Innanzitutto Papa Giovanni è stato sempre presente già dalla Fondazione Lunitalsi, perché nel 1903 lui era già segretario di Monsignor Radini Tedeschi, che poi divenne Vescovo di Bergamo, Monsignor Radini Tedeschi è uno dei soci fondatori di Nitalfi, e diventando Vescovo di Bergamo con Papa Giovanni che era il suo segretario, hanno iniziato i primi pellegrinaggi a Lourdes nel 1905. Piccola interruzione di collegamento. Ma intanto stiamo vedendo il sito internet dedicato appunto anche alle vicende di Papa Giovanni XXIII e il suo forte legame con la nascita dell'Unitalsi. Inizio secolo XX, dunque ci stava dicendo il nostro Ezio Limonta, può proseguire perché mi sembra di rivederla. Oggi è una bella giornata, abbiamo anche intravisto il cielo azzurro a Sotto il Monte. Quanti eventi sono previsti in queste giornate? Mi sembra che il collegamento sia caduto di nuovo. Maria Pia, intanto abbiamo visto la locandina con le varie tappe di questa Peregrinazio Marie. Sì, oltre a questo che citavo abbiamo anche immagini dei giorni scorsi appunto, perché ho citato già Lecco, Como, Milano, ma ci sarà anche Caravaggio, c'è stato Sondrio, insomma una Lombardia sicuramente mariana. È tornato il nostro ospite a lei, Limonta. Quindi dicevo che Papa Giovanni è sempre stato presente già dall'inizio della fondazione dell'Unitalsi. Lo vediamo come segretario di Monsignor Radini Tereschi nel 1905 ad accompagnare gli ammalati a Lourdes, nel 1908 nel grande pellegrinaggio dell'Unitalsi di Bergamo a Lourdes con gli ammalati, e poi il Papa si è recato per altre 12 volte prima di diventare Papa a Lourdes. L'ultima volta fu nel 1958, il 25 di marzo, quando consacrò la Basilica di Sant'Io X. Pensate che Papa Giovanni, quando lui era nunzio apostolico a Parigi, e veniva informato da Bergamo che il pellegrinaggio all'Unitalsi con gli ammalati arrivava a Lourdes, lui si recava a Lourdes per aspettare gli ammalati, per riceverli e fargli un po' di compagnia, perché comunque lui si sentiva unitalsiano. Molto bello. La stessa cosa l'ha fatta anche... Molto bella questa immagine, si diceva. La stessa cosa la fece anche quando divenne Papa, perché si è recato in uno dei santuari dell'Unitalsi, dove noi andiamo sempre, l'Oreto, il primo e l'ultimo viaggio che ha fatto fuori dal Vaticano è stato a Sisi e l'Oreto. Questo per dirvi questo Papa quanto fosse vicino all'Unitalsi. Il famoso memorabile viaggio in treno, di cui appunto ci sono immagini meravigliose. Infatti, per cui quando dalla Lombard ci hanno chiesto di ospitare la Madonnina qua a Bergamo, per noi è stato normale pensare al santuario di Papa Giovanni sotto il monte. Ieri abbiamo ricevuto la statua, la ospitiamo tutto il giorno oggi, e poi questa sera la portiamo a Bergamo, nell'ospedale di Bergamo, dedicato al Papa Giovanni. Quindi rimarrà fino a domani, anche lì, perché comunque è sempre la presenza del Papa e della Madonnina presso gli ammalati. Molto bene. E noi invitiamo tutti gli amici della Lombardia che ci seguono a partecipare a questi eventi, perché come avete appena ascoltato sono ricchi di storia, di motivazioni particolari, sia storici che spirituali, che ci spingono a partecipare. Sì, e poi ci sarà appunto da domenica il Piemonte, ma visto che ho mezzo minuto, le volevo chiedere, li monta anche a margine di questo anno speciale per Bergamo e Brescia, in cui siete state appunto città segnalate per la cultura. Che cosa avete dato di particolare voi dell'Unitalsi a questo anno così straordinario? Ma guardi, noi abbiamo cercato di farci conoscere a tutte le persone che normalmente ormai, col passare degli anni magari sono un po' allontanate da l'Unitalsi, quindi ci stiamo facendo conoscere con l'esempio. Partecipiamo a tutti gli eventi, partecipiamo insieme a Brescia, cerchiamo di fare le cose appunto insieme, perché, come dicevo, l'anno della cultura riguarda sia Bergamo che Brescia, quindi l'Unitalsi-Bergamo-Brescia. E riguarda anche, caro Tonio, quel cambiamento culturale che dicevamo riguardo appunto ai diversamente abili, ne parlavamo e ne parleremo spessissimo qui a Padre Pio TV. La ringraziamo molto di questo collegamento, un saluto a tutti voi. E l'augurio di un buon lavoro per le vostre attività. Grazie mille, grazie. È il momento di dare la linea alla regia, è già pronta dall'altra parte dello studio, Paola Russo per gli aggiornamenti.